I dati relativi all'attenzione dell'elettorato rispetto al centrosinistra parlano chiaro, i sondaggi danno in ascesa la coalizione di centrosinistra, il PD contribuisce però, almeno in campagna, a generare un momento di confusione rispetto alle primarie. Guardata da fuori, com'è questa vicenda del Partito Democratico e poi chiaramente qual è l'auspicio, visto che le elezioni si avvicinano a maggio e bisognerà votare? Io dico apertamente agli amici alleati del PD non facciamoci del male, anche perché sembra che l'aria campana stia girando verso il centrosinistra, noi dobbiamo essere all'altezza del ruolo che i cittadini, che gli elettori stanno richiamando verso lo schieramento che mantiene anche il governo Renzi e naturalmente dobbiamo avere una risposta forte e formativa verso il governo della Regione. L'alternativa a Caldoro penso che sia fattibile, il governo regionale uscente non passerà alla storia per meriti particolari, quindi noi dobbiamo dare dei nomi. Se non si dovessero celebrare le primarie, naturalmente noi ci aspettiamo una risposta su un candidato unitario. Per quanto riguarda gli esponenti del movimento che rappresento, noi da qui a breve porremo in essere il nostro candidato e applicheremo naturalmente il criterio delle primarie. Penso che non ci sia necessità politica per farsi del male, il centrosinistra dovrà essere compatto all'appuntamento del maggio prossimo e dico ai cittadini guardate bene soprattutto nella preferenza da indicare come consigliere regionale, perché in consiglio regionale ci deve essere un figlio del territorio e non un esponente calato dalle segreterie regionali.